Musica Vediamo quali sono le notizie principali dei quotidiani regionali online partendo dalla prima pagina di Sassari Notizie. In primo piano lo sport, il banco rompe la maledizione europea, battuto il Galatasaray è arrivata la prima attesa gioia europea per la Dinamo Sassari. La squadra di Marco Calvani ha avuto la meglio sul Galatasaray al Palasera di Migni per 79-74. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina della nuova Sardegna. La Maddalena a palo della luce crolla su un'auto miracolosamente illeso, un 43enne sfiorata a Caracavetta. Un'incredibile tragedia, il palo metallico compromesso dalla ruggine e abbattuto dal vento ha schiacciato l'auto sopra i sedili posteriori. Un uomo ha rischiato di perdere la vita schiacciato dalla enorme torre faro che si è abbattuta sulla sua auto a causa del fortissimo vento e della salsedine che hanno compromesso l'impianto della base. Queste le immagini in primo piano. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina dell'Alger.it. Un fatto di cronaca, Algero, sparatoria davanti ad un circolo, due i feriti. Feriti padre e figlio davanti ad un circolo privato. I due sono stati subito portati al pronto soccorso dell'ospedale civile. Non sarebbero in pericolo di vita. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina di Olbia.it. Meteo Sardegna, in arrivo neve in collina e raffiche di Maestrale. Tutti i sardi che amano la neve forse verranno accontentati questo fine settimana. Nel weekend è previsto l'arrivo di una corrente fredda settentrionale che porterà a un brusco abbassamento della temperatura. Temporali, grandine e fiocchi di neve anche a quote collinari. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina delle cronache nuoresi. Bomba davanti all'abitazione della madre di un medico che vive e lavora a Milano. L'ordigno conteneva poca gelatina quindi si tratterrebbe solo di un'intimidazione. Mistero sull'ordigno trovato ieri mattina a Torpè davanti all'abitazione della madre di un medico originario del paese. Domenico Cavras, oncologo, che però risiede e lavora in una struttura ospedaliera di Milano. Gli specialisti hanno preso il pacco in sicurezza e gli inquirenti hanno accertato che la bomba non è stata piazzata per essere fatta esplodere ma solo per intimorire. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina di illatv.it. Bonifica amianto 20 milioni fino al 2018, 20,6 milioni è la cifra totale che verrà messa in campo dalla regione per smaltire l'amianto tra il 2016 e il 2018. Chiesti anche 15 milioni di euro che potrebbero giungere dal piano per il sud. Rendere sicuri i luoghi di lavoro, le scuole, effettuare bonifiche nell'ambiente liberando la Sardegna dal materiale killer. Obiettivi questi che rientrano ai programmi della Giunta regionale e lo ha ribadito l'assessore all'ambiente Donatella Sfano a Sola Russa. Nel piccolo centro dell'Oristanese si è infatti tenuta la prima uscita pubblica dopo l'approvazione del piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto. Proseguiamo con la prima pagina di Cagliari Pad. Alcoa regione a lavoro per convincere Glencore. Ciò che è emerso dall'incontro in Viale Trento a Cagliari tra una delegazione di operai dell'Alcoa con il coordinatore per l'attuazione del piano Sulcis, Tore Kerchi e Gianluca Serra, uno dei consulenti della Giunta. Infine concludiamo con la prima pagina dell'Unione Sarda.it. In primo piano il fatto di cronaca caduto ad Alghero, sparatoria. Padre e figlio feriti con quattro colpi di pistola. Quattro colpi di pistola e un padre e suo figlio vengono raggiunti dalle pallotte, le colpite alle gambe e al torace. Nella sparatoria rimangono feriti entrambi ma per fortuna non in modo grave. sono ricoverati all'ospedale civile e se la dovrebbero cavare con qualche giorno di cure. Con questa notizia si conclude la rassegna stampa regionale di oggi. Grazie per l'ascolto, buona giornata.